secondo me si poi non lo so bisogna vedere voi però è il meglio questo bello 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 ma questi sono tre camere qui nelle porte oh senti l'accelerata e bello fa freddo ci credo che salta fuori ma da uno deposito bello la nuova scritta deposito bello la nuova scritta deposito ma questi sono 12 si sono 12 metri quello è 10 quello è 12 bello la nuova scrittura bello la nuova scrittura bello la nuova scrittura bello la nuova scrittura bello la nuova scrittura